Genitori molto esigenti rispetto al loro ruolo al punto da generare sensi di colpa, mentre i figli si mostrano complessivamente più soddisfatti del rapporto con mamma e papà. E quanto emerge dal Kinderometro la ricerca realizzata da Ipsos per Kinder in 5 paesi europei, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Russia, intervistando oltre 2500 genitori e altrettanti ragazzi dai 7 ai 15 anni per analizzare il rapporto fra genitori e figli. Andrea Lemanno di Ipsos. Il dato più significativo che emerge secondo me è che l'Europa è molto più simile di quello che si immagina, di quello che tante tensioni possano farci vedere, in particolare nella relazione con i figli. C'è grande voglia di cercare di fare il meglio con divisa, ma questo è auspicabile, ma c'è anche una grande capacità di riuscirci che è molto diffusa. Per il 92% dei genitori intervistati non esiste un successo più grande che essere un buon genitore, un ruolo che deve trovare il giusto equilibrio fra indipendenza lasciata ai figli, centrale per il 51% degli intervistati, e disciplina. Resta il problema del tempo da trascorrere insieme, che per i genitori è insufficiente per il 48% degli intervistati, per il 73% invece la vita scorre troppo velocemente, mentre il 65% se potesse scegliere preferirebbe avere più tempo libero che più denaro. Complessivamente però sia i genitori che i figli sono soddisfatti del loro rapporto nell'88% dei casi, con il 92% dei figli che dichiara in generale di essere felice. Elisabetta Scala, vicepresidente Mojge Movimento Italiano Genitori. Il dato che a noi ha colpito di più è quello positivo, ossia il fatto che seppure i genitori si sentono sempre così frustrati nel loro compito educativo, inadeguati, che hanno qualche cosa sempre che non va, che non siano sufficienti il tempo che dedicano le capacità ai propri figli, in realtà i figli sono contenti, dicono di essere felici e sono soddisfatti della relazione che hanno con i loro genitori. Sempre i figli, nell'80% dei casi, si dichiarano più soddisfatti dei genitori per il benessere materiali che questi sono in grado di garantire, e il 78% per la capacità di acquistare tutto ciò di cui hanno bisogno, fattori che i genitori reputano più scontati e meno rilevanti, attribuendo rispettivamente il 65% e il 58% delle preferenze. Infine, sia per i genitori che per i figli, sono i piccoli momenti passati insieme, quelli che avvicinano di più, come ad esempio cocolarsi, giocare e in generale fare qualcosa di simpatico e divertente.